Tifosi che sembrano soddisfatti, del resto la gara è stata molto intensa e ha proposto comunque diverse occasioni. Che partita si è giocata oggi Luca? È stata una partita tesa, combattuta. Alla fine nessuna delle due compagini è riuscita ad avere la meglio, ma abbiamo assistito a un confronto intenso, soprattutto dal punto di vista tattico. Non ci resta più molto tempo. Un ringraziamento a Luca Marchegiani, come sempre a mio fianco. Grazie Fabio, alla prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!